Dabbi che cosa fai tu? Ciao Millie, dov'eri che non ti si vedeva? A cercare la mia macchina, me l'hanno rubata. Non te l'hanno rubata, è perché già te lì davanti, l'ho vista io, c'era sopra quella ragazzina. Quale ragazzina? Quella che è là fuori a sparare con Edgar. Senti, andiamo a sparare. Ma è Pinky. Chi è Pinky? La mia compagna di camera. E' un'altra cosa? E' un'altra cosa?